Ed ora il commento di Gerbic e Sirci raccolto a caldo a fine partita dal nostro Marco Taccucci. È il momento più complicato della Sir, della stagione? Sì, è assolutamente più complicato. Dal punto di vista psicologico, perché due sconfitte dopo tante vittorie, dopo sei mesi a vincere dappertutto. Insomma, mentalmente ci può stare, arrivare ad una fase della stagione in cui si soffre un pochino di più. È chiaro, sarebbe troppo facile se fosse tutto liscio e in discesa dall'inizio alla fine. Soprattutto quando giochi le finali di stagione con tutte le squadre che sono attrezzate a vincere. Non dico che ci si aspettava prima o poi che succedesse, ma credo che sia assolutamente normale che una squadra abbia dei cali. Perché non pensate che era facile per loro perdere con Taranto, perdere con Lattina in casa. Ci sono dei momenti in cui una squadra va a dei cali. Purtroppo il nostro è arrivato nel momento peggiore che poteva arrivare. Ci sono diversi motivi per quello, però dobbiamo cercare di uscirne fuori perché questa squadra ha le qualità per farlo. Non è certamente la Sir che lei vorrebbe vedere? Purtroppo stasera abbiamo giocato male in tutti i reparti. Abbiamo battuto male e ricevuto male, quindi poteva finire solo così. Purtroppo questo è un episodio che si è ripetuto, altre due partite abbiamo perso in questo modo. Non riusciamo a essere noi stessi e quindi è venuto fuori che abbiamo perso malamente. Ma adesso hai fatto un'idea come mai questa squadra sia un po' afflosciata? Non è più quella squadra che metteva paura, adesso sono gli altri a mettere paura. No, perché anche alla fine poi Leone qualcosa ha fatto. Sì, perché non è cresciuta. Non è cresciuta come si deve crescere nei play-off. Ci siamo trovati a giocare nei play-off come forse nel record season. E quindi gli altri crescono e ti lasciano al palo. Purtroppo la squadra non ha fatto quel salto qualità che ci si aspetta nei play-off.